Caro Carmelo, noi non ci conosciamo. Io sono Biagio Antonacci, so che ascolti la mia musica. Stamattina parlavo con Gigi Simoni e mi raccontava un po' del tuo problema, della tua malattia, della tua battaglia che stai facendo in questi giorni, in questo periodo. Io ti devo solamente dire una cosa. Non abbassare mai la guardia sulla speranza, non abbassare mai la guardia sulla possibilità di vita e pensa sempre che ci sia una via d'uscita in ogni caso. Tutto deve partire però dalla tua volontà e dalla tua determinazione. Io ti abbraccio forte, spero che le mie canzoni possano starti vicino. Io ci sono, tutto il mondo del calcio c'è. Ti abbraccio forte e ti auguro di vincere la più grande delle tue partite e di uscire da quello stadio a testa alta, come sempre.